Sicuramente una cultura completamente diversa. Ritengo che le donne sono spaventatissime, ha ragione prima la signorina che ha parlato prima che bisogna subito denunciare, ovvero appena si ha una minima lesione, una violenza da parte del proprio partner bisogna pensare che questo può credere di nuovo. Prendo uno schiaffo, devo subito denunciare o allontanarne perché con uno schiaffo avrà dato nuovamente. E questo porta chiaramente a situazioni tragiche come quelle che viviamo. Il sindaco ha detto che ci sono circa il 50% degli omicidi in ambito degli omicidi e devo dire che invece la percentuale è molto più alta, si parla quasi del 80%. E tutto ciò si verifica proprio in ambito familiare. Per cui bisogna veramente iniziare a dare una cultura ai nostri figli, portarli chiaramente a capire esattamente cos'è la famiglia, cos'è il rapporto tra le persone per poi non arrivare ovviamente a quello che accade purtroppo.